Semplicemente ho registrato un reel che uscirà domani appunto su Instagram su come ho realizzato l'acconciatura a tema Barbie con il Dyson, non so se qualcuno di voi ce l'ha o lo conosce quindi insomma seguitemi su Instagram perché domani esce... Instagram escono un sacco di contenuti eh in realtà Instagram è più un diario di vita, ok? Escono cose molto più private diciamo su Instagram rispetto a TikTok e tantissima roba di gaming Instagram è proprio più una cosa verile, cose, se vado da qualche parte ci faccio il blog questo insomma ecco, mettiamo pausa qui e riandiamo da qua non so come mai mi sta a lampeggiare così, ma sa che c'è un problema Simo grazie per i tuoi mesi baby, grazie, come sentite l'audio? Alto o basso? saluta tesi 8997 no non è l'aspirapolvere, è lo styler per i capelli, per fare le onde, per farli lisci, è molto figo costa una sbraga ma è fighissimo allora The Sims è il benvenuto, ma noi ce ne prendiamo un cazzo perché abbiamo già fatto la vita città poi abbiamo, vabbè, queste sono tutte le espansioni che c'è di The Sims Cani e gatti quattro stagioni e non è la pizza nuove stelle, bello vita sull'isola regno della magia, stupendo vita in campagna incredibile e vita nel ranch allora non so quanti di voi lo sanno ma io vado a cavallo faccio salto ostacoli ora sono ferma da due mesi perché in estate non vado a cavallo, va troppo caldo e niente, hanno deciso di farmi uscire l'espansione vita nel ranch cioè tipo il sogno della mia vita vivere in un cazzo di ranch, in una cazzo di fattoria con gli animali ma soprattutto con i cavalli cioè per me questa è un'espansione da sogno non so voi che cosa ne pensate se vi piace o meno ma per me è un'espansione da sogno questa cosa si prova ad andare a cavallo? beh, è una sensazione che capisci solo andandoci non aspettavo altro che i cavalli su The Sims, dai non scrivete in caps, mi raccomando, eh ok, Amazon guarda, simulazioni che cosa è simulazione? Una cosa nuova? creo tutto, regà, creo tutto allora intanto facciamo una nuova partita qua, ricominciamo da capo ragazzi grazie, data, ciao Emily è qui per te, personalizza Emily non me ne frega un cazzo va bene perfetto vediamo Valerio, in che senso ma guarda, evitazione l'ho fatta tanti anni fa l'ho fatta per un paio d'anni, un etto e mezzo così poi mi sono fermata e è un annetto che ho ripreso a farla ma come mi fa star bene l'equitazione, raga, proprio mi fa staccare la testa i clienti esigenti allora, mi faccio io però, mi faccio Chiara si, ma sta musica ha un po' rotto il cazzo, sbaglio Chiara metto Chiara P allora intanto cominciamo con perché sono maschio? guarda il gender, raga, eccola, femmina non mi posso fare tipo adolescente, no? perché poi non posso si, vabbè, ciao non posso vivere da sola inglese, inglese un attimo perché sto urlando perché non riesco a sentire un cazzo possiamo abbassare sta cazzo oh, applica modifiche si opera, oh, mi sta veramente, sta a sgolar anzi oggi è nostra musica, oh salto stacoli, monte inglese, sì le baldracche di Resident Evil raga, io vario, vario tanto vario tanto perché non mi piace fare sempre le stesse cose quindi mi fa piacere se apprezzate tutti i contenuti che porto chiaramente non è sempre possibile, però allora, ok un po' meno ma perché c'è sta voce di merda? ma che fuggia? calda calda, come ce l'ho la voce io? è sta garma, oh ma è terribile ma perché c'è sta voce di merda? ma perché c'è sta voce di merda? mi sembra un po' eccessì ma sei una donna, perché mi devi mettere una voce? eh oh, dio mio, mamma mia mi è stata ben in coccolone allora, personalizziamo, va viso colore della pelle il mio colore della pelle è polivastro, neutro questo è grigio, fratello, non è freddo oh eccoci qua, può essere questo? può essere eh, mi sembra esagerato secondo me è questo ma se è un po' grigio, so mi piacciono le donne con la voce da homo ah beh, come te pare ma io non ce l'ho la voce da homo ho la voce bassa per carità, però pure che a me paro grigia famo blu e passava u il gioco di avatar senti, famo così sono trasparente però che te devo di eh, famo tipo così mamma mia, regà ma, cioè carnagione morta ok, il colore della pelle è andato visi dove, dove, dove dove sono i visi? non ci sono i visi eh bello fantastico ma perché non ci sono i visi? ma sei un po' buggato lo fratello buonasera cobina ciao tesoro ma perché mi devi fare i rughe sto pezzo di merda? buonasera a tutti ai pelul ma scusami eh ma perché se sta me sta a fare sto cosa sto ma che non mi piace questo viso lo voglio cambiare ma perché facciamo così? a parte che nessuno la senti non mi piace voglio fare una nuova intanto devo capire allora aggiungi un nuovo sim una nuova sim ma io voglio fare la sirenetta voglio una sirenetta voglio una sirena sim occulto sirena incantatore oh e ora ci siamo leva sta cretina qua ma ha già rotto i coglioni vedi che incantatrice? chiamo l'esorciccio vediamo se mi fa fa il viso ora ma perché? ma perché mi fa fa così? ma perché non mi fa fa il viso regà ma c'ho problemi io? ma come mai non c'è più? belli i capelli così mi piacerebbero un sacco a me mi sembra strano comunque è buggato allora che faccio? riavvio? vabbè ma vaffanculo però posso dire esci dal gioco esci c'è ma scusimo pazzito senti devi staccarmo con sta vita da ranch eh frate a viaggiare immediatamente anche a te? anche a te ti sei buggato? va bene se uso l'autogrid che permette di like ma a me se mi metti like mi fai contenta vuoi quello che usi va come devo fare comunque sì grazie ragazzi se state mettendo like se state ricondividendo la live se state lasciando un follow grazie mille ciao Rita benvenuta vi proviamo? ah i capelli ti piacciono ok adulto quando devo sostenere un esame ah facciamo la storia vai eh raga perché tiktok sta a fare cose strane non so perché ma sta si sta bloccando sarà un bug di espansione speriamo quando devo sostenere un esame non baro mai scelgo risposta a caso baro con la guideline con le guide online ma che cazzo leggo no non baro mai quando vado al mare come mi sento come a casa voglio che una torina ho fame adoro i frutti di mare ma hanno nessuna di queste tre in realtà bella gioiello bravo come a casa no zero voglio che i notatori non corrano riscrivere frega cazzo ho fame adoro i frutti di mare al massimo ah posso far la domanda vabbè la mia famiglia vuole che io rispetti tradizione cosa significa per me onorare la tradizione è importante invento delle tradizioni ultime le tradizioni non fanno per me ecco la terza ho trovato un tramezzino intatto ma non so di chi sia lo mangio lo ripongo lo lascio stare che schifo ma che è c'è la zella i fiori appaiono al meglio quando sbocciano il mio giardino fanno parte di una bella composizione appassiscono in inverno beh no dai sbocciano il mio giardino casa è il luogo dove tengo le mie cose il luogo dove sta il cuore il luogo dove mi sento più al sicuro oddio tutte e due le cose raga non so perché ma tiktok rompe i coglioni e mi ha bloccato la live cioè va lenta la live il luogo sta dove sta il cuore tutte e due posso scegliere tutte e due saffo però quoque tu saffo ciao stellaria benvenuta ragazzi se vi fa piacere seguire la live venite su twitch perché tiktok si è bloccato scopri di più che da ragazzi scopri nulla nascondi sì mi sono bloccata su tiktok raga ma è brutto proprio c'è proprio bloccato tiktok raga è tutto bloccato frate è bloccatissimo ciao pacuro no no non mi hanno segnalato si è bloccato proprio l'applicazione tutto ma Remma Maiala ma guarda che tocca mi tocca fa gestione attività tiktok live studio oh fate cazzate termina eccoci qua riapriamolo eh lo so sì perché macello dove sta tiktok mi sono perso riapriamo tiktok così la famo io c'ho sempre fame ragazzi ma come è possibile si è bloccato continua a presentare la live da quel dispositivo continuano la live ragazzi mi vedete oh mio dio raga mi vedete ora mi fate un check su tiktok se parte oh finalmente cazzo e non so perché si è si è buggato raga si è buggato peggio dei sims la roba due codomo 27.000 allora la casa secondo voi è il luogo dove sta il cuore o dove mi sento è tutte e due le cose dove sta il cuore dai facciamo i sentimentali grazie dragon grazie mille per i tre mesetti tesoro a cosa tengo di più in assoluto nelle scelte del posto dove vivere sfoggiare la mia ricchezza avere spazio per intrattenere gli ospiti avere i coinquilini assolutamente la seconda devo quanto devo avvicinarmi a là quanto devo avvicinarmi a me magari potessi avere le branchie e lo snorto meglio stare all'asciutto sulla mia barca assolutamente ecco sono io in realtà in live ho un filtro la verità è che sono così la carriera io non so cosa dire veramente ho la barba si buggato buggato ma ora ditemi voi un attimo no come dovrei fare secondo voi ma maremma cane si è bloccato raga come faccio non posso farlo tipo random hai ragione potrei provare si escono le sopracciglia gli occhi bravo possiamo far così per forza ma sta incazzatissima lei comunque io ce l'ho un po' così ma manco troppo eh ma che brutti eh ma questa mannaggia merda no proprio non funziona raga tagli dei sopracciglia no ma che re dettagli le cicatrici mi fa ciao ciao scilletta non me lo fa fa non me lo fa fa non me lo fa fa la forma no già che pure prima si era buggato che palle ragazzi ma perché facciamogli il visetto più piccolo la bocca non mi piace così è proprio così va l'arba parietti appena fillata e no ragazzi non me lo dà è buggatissimo così mi piacerebbe così pure mi piacerebbe come ce l'ho le labbra io ma sono tutte così sporgenti sporgenti marò ma che è l'ariblasio allora io ho il labbro sotto più grande di quello sopra non ce n'è uno che rispecchi la mia bocca questo magari giuro gozzi benvenuti ho la mia faccia di culo che muso lungo ma paro il grinch paro raga ma perché è così giù ora ma vi sembra il caso senti ma posso fare il mio personale la mia bocca ideale eccola è questa ok ma comunque posso cambiare colorito ragazzi so grigia oh ecco quasi cambia un po' un po' il viso ok già meglio senti senza sta perdendo troppo tempo mettiamo questo e vaffanculo stringiamo un po' che c'ho il viso fino sta capigliatura ma sta proprio sull'cojona bello oh Elio e le storie tese fantastico benissimo quali sono le mie sopracciglia ma che è sta storia ma una cosa un po' più distanti eccoci qua un po' più lunghi perfetto oh così le mamma mia che 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 difficoltà signor fa sto cazzo personaggio quali sono gli occhi che mi c'è pieno di più secondo voi ci sono troppo che fatica regà sono una psicolabile farò una Karen ciao Octavia così così sto schioppata belle chicchia che c'avevi la botta però un po' però un po' messo mi cioè però ci stanno un po' no non è vero sto amiazzata da fatalona lo famo tipo così mi piacciono questi occhi mi fanno così ecco perché sono un po' bassi ai lati ecco questo potrebbe esserci allora colore nero palese nero anche o anche marrone scuro dai marrone scuro da un po' di luce più che altro io vorrei cambiare questo colorito questo colorito veramente disumano ecco già così ecco cominciamo dai capelli dai che forse ci stiamo va lunghi oh ciao sono godomo sono un po' grigio la verità però così li faccio ogni tanto mi vedi i palli da te ma i miei capelli non ci sono querela belle queste treccine oggi ce le ho mossi ma belli così a parte che wow posso farli tipo yeah let's go mi sembra un po' tumaccio però zia belle le treccine stiamo pensando il mio sogno avere treccine però mi cascano tutti i capelli se mi faccio eccola so io ma non li posso tipo personalizzare non si potevano personalizzare degli occhi ingravidanti non mi ritrovo amichi non mi ritrovo eccoci qua so io che ce l'ho più spesso così ma io non li voglio questi no capito ma i sopracciglia ne posso fa mi rifaccio fuxi ascolta dai ma che è sta storia pochi colori comunque pochi colori c'ha non mi piace sta storia cioè che io devo fare così è così probabilmente si avvicinano di più ai miei però non so questi miei sono mezzi fuschi ai miei ciao la vi ciao fanni si posso cambiare ma infatti me ne cambio ma che dite mi faccio mi faccio fuxia o mi faccio mi faccio mi faccio così è più realistico però che palle raga cioè veramente eh stasera sono un po' così sono un po' fatalona ma io li faccio lunghi lisci frate me sa che così varo ma la monna lisa varo ogni tanto li ho anche così eh io che è passita mi lascio fuxia raga fa un culo fuck the system is my dream averli fuxia quindi perché così mi pare troppo però mi sembra strano che si possono personalizzare molto strano vabbè mi faccio fuxia mi sbatte un po' sto fuxia però un po' fatalona parola tiranetta è vero che sono una strega eh però modifica dettagli a sinistra a dove è la madonna frate no vada allora il naso fa molto un po' più il nasone perché io ce l'ho non c'ho proprio il nasino cioè mi piacerebbe aver il nasino ma c'ho il nasone ecco sì dai oh comincia a assomigliarmi come ci assomigliarmi oddio che strano oddio che strano oddio che strano in a spotty world life is fantastic is fantastic uguale ok non mi convince questo questo colore di capelli ma vabbè che vi devo dire allora intanto tetto no vabbè così non esageriamo così dai così vita stretta come il canarino fianchi larghi come il canarino il canarino cosce non troppo col pacchetto fino da malata perfetto spallette sono giuste spalle sono giuste sono oh nanto sai che cazzo hanno preso il volo queste tette ma che è così sono un po' troppo calate così via ciao utente ciao Gabriele ma è impossibile Gabriele l'ho sempre fatto la personalizzazione la self confidence ebbè oh tettona è culone chiaramente se ando vado senza culo cioè c'ho più culo che anima lascia fa body positivi la panza la voglio piatta anche se forse è un pochetto gonfia va bene il piede uomo lungo sto scherzando normale sì però sta ferpetta non mi valorizza posso dire e andiamo madonna mi ho pensato che ho un po' esagerato con i fianchi un po' esagerato con i fianchi è ca vita direi dai così che cazzo sì cambiamo cambiamo vestiti allora come vogliamo vestirci corpo corpo freddo che cazzo sono morta hai ragione hai ragione allora pantaloni no mamma mia regà un po' raghi di che è la c'ho talmente il culo grosso che nientra nelle mutande story of my life proprio no regà ma cioè il culone ce l'ho non è che devo star là a fa disica cioè quello è il sorpascio sembra un po' troppo fino però non esageriamo eccoci qua le mutande sono diventate tanga praticamente da spacchetto del culo come idraulici no eh devo dire eh eh regà ma il culo ce l'ho eh il culo ce l'ho e mi lo metto tutto guarda giusto un po' il fianchetto che ce n'ho di più ma non così Cristo Dio ti fai come vorresti essere no se mi facessi come vorresti vorresti vedere no al meglio perché sennò mi si sfancula tutto no mancherebbe un po' di fianchetto qua ma d'altronde eh forse no però la vita ce l'ho stretta però poi ti ho esagerato cioè non è molto dai vabbè è così come idraulici ciao stupenda come il sole vabbè dai va bene così ok e ora tipi di look ma peffò a belli a chicchi ma andannate io vado a cavallo scemi ah io mi vedo mi vesto da ren cioè questa è proprio la mia la mia cazzo di vita io voglio vive così voglio vive così dove sta allora io o così no ehi scemi calmi ah allora questo rosso non mi sta ma è un rosso troppo caldo questo nero not bad no questa che ha la contatinella pure così dedica la verità un po' sossata di cavallo questa no ma andò vado così al ranch pure questo mi piace oh my god adoro adoro questo mi piace da morire vi posso dire che mi piace da morire voi dite ma che è sta cazzata ma dove vai la coda ma che sei la contatina la contatina e invece a me mi piacerebbe un sacco vestirmi così io lo adoro si chiama c'ha un nome in sto stile si chiama pare cottage core se non sbaglio molto emish sì però adoro chic in campagna vedi non so chic porco due proprio cazzo chic cioè questo è proprio il mio outfit tipo io mi vesto così frate inverno so io oddio no raga non so quale scegliere cioè questa espansione è la storia della mia vita cazzo grazie kebab cioè la storia della mia vita mi vesto così no raga io voglio ora io voglio ora non ce la faccio mamma mia no ragazzi li voglio tutti li voglio tutti e ho capito ma qua sta ma a ranch sta ma mi cacca guarda il mio pure questo è molto mio però non non proprio da tutti i giorni no raga ho deciso cioè non è vero non ho deciso un cazzo secondo voi qual è il più carino allora questo è da giorno abito da giorno grazie stupenda una stripper a ranch quella da sbuciona col cappello ho capito ma siete dei porconi siete dai sempre a fa ma dove vado così cioè ma una immaginate una che lavora così a ranch cioè ma scomodissimo ragazzi ma non scherziamo dai così vado a festival da contea al compleanno dei Bilbo Baggins vado così ma dove vado a pulire la merda dei cavalli con sta roba sì ma non scherziamo dai facciamo eh questo può essere questo può essere un outfit da pulitore dei merda dei cavalli mica altro cioè no allora a ranch uno va così a ranch poi se volemo fa al compleanno di Bilbo Baggins siamo scesi ciao Cribella cioè manco con questo a ditta la verità ma manco con questo cioè al massimo uno può andare così quasi dice quasi così sì dai già ci sta già ha senso grazie Degradone grazie mille già può avere senso capito Degradone guarda quando sei Degradone il più potente secondo me questo ci può stare come come pulitrice di cacca di cavallo dobbiamo solamente scegliere il colore abbiamo un verde un verde erba secca un grigio un grigio cool un grigio che sa il suo che non lascia non lascia spazio alla mediocrità una salopetta da bambina di tre anni probabilmente questa dei quattro io sono indecisa tra ma ti fai più abbronzadina questa è la mia carnagione perché sono andata sul freddo quindi è quella ma come troppo suona ma da un napoli il buccio del culo dei cavalli allora Alex mica devo andare a rimorchiare allora o questo o questo verde scusami o questo grigio o questo nero questo grigio non mi dispiace anche se il verde mi piace da morire dica la verità grigio meglio però dai grigio fa feo secondo me grigio ci sta ora formale formale che fai tu lo metti un bel molto dark accademia ecco formale prova questo look ma dov'è questo sarebbe formale massa che figa però mamma mia mamma mia ragazzi che fregna ma come si fa di esbre questo non mi sta bene questo olore è troppo oh no no ok nero mamma mia nero con la vacca ma che stai a dire ma troppo bello no questo io lo voglio raga questo io lo voglio ora ricominciamo eh formali arrange dannamo così ma che è secondo me è questo allora di questo tipo bisogna capire il colore il colore questo verde è molto bello l'azzurro mi stanno tutti bene te dico la verità però se voglio fare la vita loca la cowgirl io andrei così eh io andrei così verde sì è un po' troppo troppi colori è formale io andrei così grazie Harley Quinn grazie mille per i tre mesi bello bello azzurro azzurro c'ha il suo perché te dico la verità c'ha il suo fascino però a sto punto bianco sì o bianco o nero decidete bianco o nero però dici che se tutti i giorni mi vesto di grigio qua namo dei azzurro ciao lina sembrava padrone eh capito fama azzurro guarda che bello questo capello fucsia ci sta azzurretto verde ma verde che è mi pare mi pare una coatta di torbella monaca quando va a fare spesa dove vado troppi colori dai cioè è carino ma azzurro azzurro è molto elegante c'ha stile c'ha stile secondo me ci sta si va rimorchi a stalloni azzurro mi nonna ma come azzurro mi nonna dai ci sta stiamo nel ranch eh mica stiamo a Miami cioè azzurro è bellissimo secondo me azzurro ci sta perché mantiene un tocco di eleganza non so c'è qualcosa c'è qualcosa di elegante ma nero è il eh lo so che il nero è il muccato però allora il nero mi dà più di capito di capo di capona cioè io sono il capo del ranch non mi devi rompere il cazzo cioè così così però ci sta di più dai sportivo perché c'ho occhiali mazza che sbraga lei che c'ha su quelle cose mi sembra un po' eccessivo quasi si va si va questo che dice mamma mia questo è proprio cioè questo è proprio sì questo devi avere fisico per mettere questo però questo costo fucsia questo costo fucsia gli ammolla eh questo nero fucsia eh e se no andiamo sul classico senza far troppo esbucione e andiamo con una cosetta così ecco perché se no poi se beccamo il catcalling non mi pare il caso non lo so perché tutto il resto è molto catcalling tranne questo che è abbastanza sciallo questo è sciallo però è un po' da sbuciona pure questo effettivamente no in realtà no però forse preferisco rimanere neutro ti dico la verità mamma mia ma da che cazzo so a Katniss a belli a sghici bello questo così eh allora no bianco frate tutta la vita bianco tutta la vita bianco secondo me sì 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 allora estate notte estate fresca ma che è? estate fresca mh daddy chiami te un po' così un po' senpai però mi piace la camicia così eh che sta così col titino questo in realtà questo è il mio corciavattella dei coniglio corciavattella dei coniglio e quando sto a spa no forse questo è quello che mi rispecchia di più ah Marco stato è buono eh allora ogni colore è bellissimo io non so quale cazzo scegliere ogni volta voglio morire mi piace questo rosa ti dico la verità basta oh e mo per un party per un party per un party gliela potevamo pure ammollare una cosetta una cosetta gliela potevamo pure ammollare mamma mia chi conigli ma doveva il party così ma chissà chi appa questa ma qui che reo ma massa che figo questo l'ho fatta io ma mi somiglia un po' eh grazie madonna bello così ma così mi rimorchio il cantante dei cancer roses ma va bene però non lo so ragazzi non mi convince questa storia ma senti famo così ce l'avemo il vestito da sbuciona usamolo eccolo qua il mio party ma somiglia il problema sai qual è c'hai capelli troppo fucsia dovrebbero essere meno dai ci piace così dai secondo me è così eh vabbè ma d'archettone dai non ha senso oh costume da bagno attenzione attenzione quasi sbucceggia mamma mia questo è il mio frate guarda se sono dei capelli bello pure questo carino questo qua oppure questo corpareo così la gente non ti guarda il culo eh vabbè c'ha il suo eh fa il suo fa il suo e dai fa il suo fa il suo bello comunque questo è molto elegante let's go si va al mare si va al mare facciamo un tuffo sono pronta sono pronta per un tuffo signori vabbè questa è la vita no vabbè questa è la vita frate oddio come faccio come faccio a privarmi di questa cosa come faccio a privarmi di questa cosa crea altri sim ci vediamo però scusate in tunica andiamo bello questo pure no però questo è bello frate allora ti posso dire ti posso dire mi piace questo posso metterlo come secondo costume non lo so mi fa troppo rite comunque allora decidete o questo vi ho fucsia oppure oppure questi qua direi questo qua nero e verde oppure il fucsia quale fucsia nero fucsia fucsia ma come si fa a mettere la seconda opzione ragazzi fucsia fucsia nero nero fucsia fucsia state votando su twitch votate su twitch io ho fame ragazzi come si fa a vivere così in questo modo ad avere sempre fame nella vita vorrei capire freccia in alto o dopo proviamo che sta a vince il fucsia o il nero ma io nero sta a vincere sta a vincere fucsia ok ah cazzo ma beh raga ciao è finita subito subito questo metto forza grazie raga non lo sapevo sta cosa ti ho gelatino la vita ammazzo ti giuro ma allora scusa ma allora scusa ma allora ritorniamo a noi possiamo mettere più vestiti e allora mi metto anche uno di questi ok un altro e metto anche questo chic in campagna e chic in campagna frate devo e allora ne mettiamo anche un altro eh per forza perché io li adoro tutti sti outfit sì mi piacciono troppo certo sta scarpita insomma da bici da bici mi piace questo però sta scarpa io voglio toglie mettemoglie le pinne mettemoglie questi eccoci qua mi piace così ecco così ha senso perfetto bene ok che cosa ci manca questo che è in bottiglia di tutti in briga di tutti clima caldo eh clima caldo che è difficile comunque clima caldo mettiamo questo dai ah cambia anche il trucco cazzo vabbè sti cazzo va bene così clima caldo che carino pure azzurro ma sta bene l'azzurro fa caldo a vedere sto maione questo è carino eh però in estate io ho la manichetta a me la metterete di la verità per niente proprio sì ma qua pita da ranch sta a diventare boh voglio una cosa da ranch voglio e quando fa caldo si mettiamo questo boia boia ha detto boia sì palese questo è da fest da party dai mettiamo questo se no dai il vestito che ha la magliettina che dite questo che è margherite dai sì questo che è margherite e quando fa freddo invece che cazzo qua stiamo montando stiamo sulla neve ma non c'è un qualcosa da mettere ma dove va freddo quella così mamma mia mi nonna in cariola parti in maremma io ve giuro uno più brutto dell'altro si outfit e quando fa freddo io ammolliamo così direi di questo bello sto rosa mi sghiccia ti devo dire no forse no o così mi piace il colore mannaggia la merda mi piace il colore che sia un po' vivido dai azzurro ti piace rosa grì rosa stacca poco ciao sabbi rosa questo mi piace questo contrasto mi piace questo contrasto con il verde sì dai verde ok let's go ho fatto quelli perché ci metto di meno capito hai decidi gli outfit verde bello mi piace sì bello allora il personaggio è fatto non ho capito perché mi ha deciso ha deciso di mettere botanista freelancer ma chi è sto sì figurate quanto ci mettevo prima mi chiamo l'abbiamo ah no chiara sì scusate ma chi ha detto di mettere collezionista ma chi vuole fare l'erbolaria no non voglio fare l'erbolaria non voglio non voglio fare la contadina voglio fare la perché hai fatto il quiz ma porca me sì ragazzi sono su twitch è bastato a trovarmi su twitch mi chiamo codomo l'app è gratuita let's go eh lo so l'account gaming è stato creato ormai un mesetto fa sono pure il rosa oggi sì infatti si può cambiare come faccio a cambiare sto cazzo di wits c'è la cosa che dice me lo fa ciao jimmy's love ti prego non dirmi che devi ricominciare no no non ricomincio regà no il cristallo no porca puttana a cazzo dici ecco questa è più mia voce voglio fare la contadina voglio fare la mignola no non devo rientrare nel loop dei sims se no ascia sta guarda green con i cheat rientri nella casa e poi cambiare ah con i cheat bello vabbè non posso cambiare ok allora è fatta mancano solo i gatti che carini va bene Aulina e te pare questo è proprio rollo sta sempre a sbrattare guarda che schifo porco due o poi ha sbrattato nella direzione l'ho cambiato e sei rimasto là posso fare anche il cavallo no vabbè fermi tutti ragazzi fermi tutti è finita è finita ragazzi mi dispiace ma avete persa ma avete persa per sempre allora adesso che ma a me stocchi mi piacciono però scusa è così allucinato ma che rest tu catt ecco rollo è un po' così proprio così testa a pera no è così sì ma stocchi mi sembrano strani però no sono questi ok rollo donna che il zampone c'ha però vabbè il manto e no qualcosa deve essere rosso vabbè fammolo così vabbè fammolo così dai per non stare a perdere troppo tempo mi chiamo rollo p americano a pelo lungo ma non è americano ma chi ha detto il quale americano americano ma c'è sta filtrarazze nor nor gatto delle foreste norvegesi cristo eccolo eccolo piccolino piccolino però non è tutto rosso ah ok fermi eccolo sto gretino è lui ah forse questo aspetta gli facciamo un rossiccio più che dire pollettini che dire che dire vabbè lo facciamo così dai basta senza stare troppo a seduto bravo rollo piedi sdraiato ah che carino è carino vantaggio la misera ok distaccata no che distaccata no lui coccolone affettuoso questi gatti sono davvero affezionati ai propri padroni in conflitto con distaccata che cazzo dici affettuoso amichevole curioso esuberante ghiottone sto ciccione territoriale voleva viziare viziato mobbido no freglia famo mobbida lo guace lui parla un botto eccoci qua va bene va bene altro gatto via se no veramente massa pare freia norve gese questa la lasciamo così perché è molto simile a freia già così quindi va bene lei pure mega affettuosa mega affettuosa ma esuberante proprio lei guarda proprio lei è mobbida è mobbida oddio oddio sto sbrattando oddio oddio che schifo mi chiamo freia p altro gatto no questo è un cane oddio ma che è sto cane che si è presa la chetamina no chiudi chiudi allora altro gatto grazie mille per i cuori belli grazie mille gatto c'ho tre gatti ragazzi europeo 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 nessun gatto abissino eccola è questo è nene questa neve p allora neve è territoriale molto pigra sta sempre a dormire ultima pure lei è affettuosissima però quindi mettiamola e mo famo Luca va lui regà si può fa no vabbè mi sento male oddio mi serve qualcosa mi serve qualcosa mi sento male mi serve qualcosa mi sento male il genere è giusto o cazzo maschio porca mignotta meno male che mai hai detto femmina e femmina raga i cavalli ma stiamo a scherzare se possono fare i cavalli no raga io mi sento male grazie posso piange oddio posso piange io mi sento Mario pentors bellissimo quarter horse pure questo è bello americano da sella trattore ah trottatore infatti ma che cazzo è il trattore andaluso bello l'andaluso pure bellissimo l'andaluso anglo-arabo questi sono stupendi vabbè perché io faccio otto cavalli ma non scherziamo cioè appalosa faccio pure un saltatore l'arabo l'arabo è bello berberu io uno di questi grossi comunque lo voglio così guarda ma quanti cazzo no raga hanno fatto un'espansione della madonna il frisone no c'è il frisone fermi il gipsy pure è bellissimo oddio no vero è stato irlandese da tiro no raga è finita ma quanti cazzo ce ne stanno questa è un pony ahhh puro sangue beccate qua shire tennesse self-hancy asga ma c'è il saltatore salta cavallo che salta ce l'avemo allora ragazzi qua c'è un problema alcuni sculettano si sono stupendi li posso far riprodurre penso proprio di sì allora il paint horse mi piace da morire mi piacciono i cavalli pezzati da morire quarte horse è un cavallo meraviglioso stupendo l'andaluso quale cazzo me faccio l'anglo-arabo mi piace mi piace così mi piace anche grigio guarda mi sento male potrei morire come faccio raga non so che scegliere vi giuro allora il frisone sì ma io ci voglio anche saltare un cavallo buono per saltare potrebbe essere un arabo no raga mi sento male mi sento malissimo no saltano tutti i cavalli lo so però uno potrebbe essere agile il giusto l'andaluso mi piace da morire allora questo me lo devo fare per forza perché questo è il cavallo di di bell per forza infatti la chiameremo bell bell p no amichevole coraggiosa ma bellissimo raga ma è bellissimo energica un tasso in alto il track nero è una razza da salto vediamo aspetta questo è femmina ok ragazzo è veramente io non ho parole mi piace c'è una testa un po' piccola però caselle e infatti guarda che c'ha la sella da monte inglese la farei così no così se no che se può scegliere la sella si che se può scegliere regà mi dispiace mi dispiace tantissimo ma ma io mi sento male io mi sento mi potrei sentire male intanto sotto sella io lo mettevo perché poraccio cioè ma che gli è ma non mettiamo sotto sella guarda che fa no raga è finita scusate ma cioè per me sta roba è troppo no rosa no è da tamarro dai ma che è rosa no dai viola no no viola no dai nera la sella sella nero questo che è no che cazzo questa è una monte inglese mi sembra non c'hai non c'hai redini però vabbè monte inglese vai la sella la facciamo marrone nera la rosa è da cafoni dai bello questo mi piace e allora a sto punto la sella uno la può fare con un pezzetto colorato la sella una la può fare col pezzetto colorato dai pure così non è male questo sarà il nostro cavallo da salto queste le lasciamo nere di cappellino è bellissimo no ragazzi come sento male no però questa lei è da salto lei è da salto anzi no la facciamo lui perché i lui sono più facili da gestire come lo facciamo bello così no rega sono bellissimi sono stupendi sti cavalli vi giuro mi sento malissimo mamma mia tutta tutto nero così tutto nero con le cose bianche no bellissimi stupendo no rega il mio no sono pazzita sono pazzita completamente abiti poi però sto fiocco ma che è sto fiocco che dipingo ma che cazzo è in quadro no 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 è indietro voglio togliere sta cazzo di coda ma perché mi faccio la coda così crine oh lei fa sta cazzata ah no libera così no no libera ok il testore del manto va bene così dove sta la coda mettere un attimo cucciolo e mica lo posso mettere cucciolo sai ma mo li fam accoppiare frate ma io voglio togliere sto cazzo di fiocco ah togli sta cagata ma che re allora questi li mettiamo no dai questi no allora equitazione quotidiani allora quotidiani gli possiamo anche mettere un bel fiocchetto e gli mettiamo anche questi ma guarda che tipa ma il fiocco c'è viola oh mio dio c'è no vabbè raga io mi sento male io voglio ma io mi sento male no vabbè no vabbè oddio qualcuno mi aiuti ragazzi mi serve una mano mi serve un aiuto mi serve una mano vabbè no dai questo no questo no questo no gli mettiamo un cavallo più serio un cavallo più serio un cavallo più serio e lo chiamiamo oddio come chiamerei il mio cavallo non lo chiamiamo sto cavallo è un maschio è il mio cavallo per saltare questo ma che donato ma che è mi si mette a fare schiacciata no valerio dai come lo chiamerei dai come lo chiamerei il mio cavallo vai sogniamo il tasto sopra per sdraiarlo alan come potrei chiamare il mio cavallo itachi bello mi piace itachi no però deve essere un cavallo deve avere un nome secondo me è tipo zeus capito deve avere un nome del genere un cavallo non posso cioè ma che soccolaro non deve essere tipo ade lo voglio chiamare ade madonna si ade mamma mia si mamma mia si ade si mi piace ade no no ade è lui che c'ha la bocca con gli occhi bianchi no regalo facciamo con gli occhi con gli occhi azzurri vi prego anzi con gli occhi grigi ma che cazzo cazzo c'hanno st'occhi ma che è oddio io avevo voluto il corno è molto male basta questo sarà il mio cavallo per saltare i 140 vado allora Belle Belle tocca capilla però Belle tocca capilla perché non l'abbiamo customizzata per niente Belle non mi piace sta storia allora a Belle è bella che si mette sta sella sta montacqua americana mi piace not bad però direi che damo gli insenza sta porciano gli famo ecco una cosa così che è rosa la mettiamo così mi piace così Belle in realtà ora fermi perché bisogna fare allora lui lo facciamo coraggioso perché devi saltare ostacoli se no me butta per terra ciaone poi lo facciamo tranquillo chiaramente e lo facciamo intelligente mamma mia il cavallo perfetto 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 ora ne facciamo un altro ma ragazzi ma come si fa a mettere cucciola oh ti guarda che figlio no vabbè come si fa a mettere cucciola nell'età mi sento male mi sento male mi sento male aiuto guarda quanto è storto è troppo carino che dolce che cazzo questo è maltrattamento di animali ma guarda quanto è ma guarda quanto è storto come fa a morire ma che re e questo ce lo facciamo arabo e lo facciamo cresce che dite arabo dai lo famo arabo ma perché arabo è per forza così che cazzo ha preso ha preso la geratina gattande carino come si fa motivo e colore l'araba questo arabo lo facciamo così sapete quel cavallo arabo mega ciao mamma Betty mega conosciuto che sembra dorato ecco lo vorrei fare così mamma mia regazzi io non ho messo arabo grazie che ho messo arabo l'ho cliccato eccolo l'ho cliccato prima sì sì arabo capito lo famo arabo di quelli belli grazie per i cuoricini belli grazie mille purello ma che fa c'è una cazzia infatti mamma è vero che dite così lo facciamo golden eh ma la razza l'ho cercata ragazzi l'ho cercata qua arabo hai ragione scusami hai ragione avevo sbagliato avevo sbagliato bravo eeeh ma comunque lo facciamo bianco lo facciamo muovamo lo facciamo golden come dai famolo golden mi piace golden dov'era il golden no non è così è così sembra un po' una foca sì ma perché i cavalli piccoli sono così sono un po' c'è il frisone poi basta giuro quattro cavalli poi basta la frisone la famo femmina tre gatti e quattro cavalli ci sta that's it va bene ragazzi di tiktok benvenuti in questa live incredibile sono di roma sì e oggi è uscita l'espansione proprio oggi vita da ranch su the sims 4 e dato che io vado a cavallo e adoro con tutta me stessa i cavalli cioè il mio sogno è avere un ranch e possedere dei cavalli non potevo che non giocare stasera a sta roba perché sto impazzendo è bellissima questa espansione non abbiamo neanche visto tutto non abbiamo visto niente abbiamo visto solamente che si possono creare personalizzati come si creano i cavalli i gatti e i cani ok quindi detto ciò come lo chiamiamo lui è tutto dorato è tutto dorato dorato una persona dorata chi è una persona certo data per forza goldi no qualche tipo ercole d'oreus chi madonna è peter pan c'è sempre un peter pan in ogni maneggio e il dorato dollaro goldi mi pare in pesciolino achille oscar ercole vi ricordate perché abbiamo fatto tutte le cose della mitologia abbiamo fatto ate possiamo fare ercole eh lui lo possiamo fare ares però cazzo si ares si 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 lui ares allora ares lo facciamo spirito libero lo facciamo affettuoso amore guarda che fa guarda che fa con quella muso facciamolo amichevole ragazzi mi sto sentendo male vi giuro mi sto sentendo male e coraggioso sto male ultimo dai ultimo giuro poi iniziamo a giocare perché voglio vedere tutte che cose si possono fare con questi cazzo di cavalli perché mi voglio veramente bellissima frisone per forza frisone per forza un frisone va fatto e io ve lo dico il frisone me lo faccio nero ci sta anche il corno no l'unicorno è troppo troppo non sento aspettate scusami un attimo eh fine corpo abiti ok questo l'ho fatto così poi lui non ho fatto gli abiti a lui aspetta allora equitazione ho fatto così ma di giorno di giorno lui lei è belle lei è belle quindi gli mettiamo gli mettiamo a belle che bello mio dio è stupendo il frisone lo chiamo Eros ma non so se lo faccio sono belli però eh solo che mi sa un po' di cringe lo lasciamo così dai invece lui abiti allora lui solo i quotidiani chiaramente perché lui non c'ha niente frisone vai allora il frisone la facciamo femmina allora ci abbiamo lui che è maschio Ares poi ci abbiamo Ade e ci abbiamo belle che è femmina e e lei che la facciamo femmina ma non so ancora come chiamarla come la chiamiamo lei lei faiera così si accoppiano afrodite Persephone è un po' lungo Freya cosa si chiama il gatto Zendaya me sembra Diana Tena Diana è bello eh pure Tena mi piace avevo pensato a Venene ma è troppo lungo Agamennone Oddio Xina principessa guerriera si mi piace Xina pure Era è bello però Era la madre di Oddio Daphne pure è carino Oddio Oddio Allora Athena Oddiana Oddio Lilith si c'hai ragione che stupida idiota perché non pensarci prima c'hai ragione Lilith è una frisone è una frisone bisognosa molto dolce è uno spirito libero e e poi 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 tanto mi diamo topaddock fanculo la chiamiamo Lilith per forza scusate ma Lilith Lilith dolce è un po' a controsenso effettivamente si allora è energica amichevole però non mi fate fare cavalli aggressivi che poi si fanno toccà è intelligente quanto sono belle le animazioni dei tratti ciao Marti no ma lascia la dolce è cute no la dolce è carina troppo carina allora ora veniamo a noi io la lascerei nera perché a me piace da morire il frisone nero tanto tantissimo come monta come monta ah sul frisone secondo me la monta inglese boh che dite è The Sims cioè è uscito l'espansione dei cavalli raga pazzisco americana infatti americana così però e la facciamo tutta nera che c'è tutta nera un barrone non mi piace ma che resta caponata dobbiamo vedere questa com'è no questa per forza tutta nera tutta gioia tutta belleza e ok bella questa bella pure questa mi piace questo colore mi piace questo colore quella forse è la più bella sai e rimane scura dove era mi ricordo più eccola questa qua questa mezza violetta mi piace eh ma non c'è stata dressage qua poi io dressage non lo faccio quindi non lo so che sella c'ha che monta c'ha non lo so lascia inglese ah mi lascia un inglese eh ma sai che dressage infatti c'ha l'inglese beh vediamo l'inglese allora sai cos'è secondo me sì perché il sottosella americano non mi piace è troppo poco elegante guarda che bello sto grigio invece questo qua tutto nero io famo sì tutto nero via tutto nero tutto nero basta tutta nera tutta nera dai è troppo bella tutta nera perché altrimenti bisognerebbe fare proprio uno stacco drastico e fai la monta la monta bianca ma non mi piace la monta bianca dai vabbè lasciamo così allora sottosella a bordeaux non c'è vediamo c'è bordeaux invece bello bello bordeaux in effetti bello sottosella così però a sto punto è male così mi piace così però non c'è lo stesso bordeaux cazzo l'espansione raga costa tanto come tutte le cazzo di espansioni The Sims però vi posso dare un consiglio l'espansione è uscita oggi che è il 20 ma se lo comprate direttamente dallo store di EA e The Sims vi costa 40 euro se invece andate su Instant Gaming la pagate 27 che non è comunque poco ma è comunque meno io l'ho presa su Instant Gaming vi conviene prenderla se la volete prendere io la lascio così io la lascio così e invece quando sta scialla così mettiamo la coroncina la mettiamo bianca la mettiamo bianca mi piace mi piace la frisone così ma che è sto cosa regà posso dire che mi pare posso dire che mi pare da non mi piace però sto cosa non mi dice niente io lo lascio sto fiore grazie mamma Betty grazie per tier 1 baby grazie infinite se no così è carino sondaggio in chat glielo lascio il fiore in der ku glielo lascio il fiore o no non lo so sono decisa non lo so se mi piace no no dai basta non glielo lascio non mi piace però la coroncina si dai no dai fiore la coroncina gliela lascio manca la coroncina manca la coroncina vabbè manca cara ok basta direi di giocare sono 17 ore che stiamo qua ci sono un sacco di cose da vedere ragazzi veramente tanto la corona le sta molto bene effettivamente sono il cappellino ad ora dai mettiamocela almeno a lei la coroncina dai guarda che carina si butta per terra e adoro mi sento male per forza mamma betti per forza ah mo li famo i città aspetta io direi che possiamo andare c'è un umano e uno due tre quattro cinque sei sette sette animali e un umano ma un uomo ma un uomo so famo no senti senti che famo qua senti che famo qua creiamo senti a me creiamo un uomo creiamo un'altra vita e poi li facciamo incontra li facciamo insucia se no è troppo facile un uomo single basta è il limite massimo dei sim un essere umano e tutti i cavalli e animali bene direi che ci siamo mi sento è bellissima è bellissima è stupenda no rica mi sto per sentire ve giuro io non oso immaginare tutte quante le cose fighissime che ci saranno hanno da fare creati crato so jason momoa andiamo su una cosa semplice il mio futuro ideale e chiaramente iniziamo in inverno va bene aspetta iniziamo quando in autunno dai in autunno stagione perfetta l'autunno guarda oddio adesso c'è proprio la no rica c'è il paesaggio no per forza no no sono sigo seguente no leva che mi ha rotto i coglioni allora ragazzi bisogna fare il trucco dei soldi davvero manca poco dai manca e quasi finito luglio manca solo acus allora fermo c'ha ragione com'erano i cosi com'era alt shift alt caps ma cazzo control alt che cazzo era e per forza control shift c ok vai riditemi ah testing che schifo che faccio testing ceaz on poi ah poi cas punto ma che resta roba rica full edit mode ma non sta andando free reale free real estate on ma sta andando non sta andando mother lode ma non sta andare ragazzi c'è qualcosa che non posso mother lode ma perché devo fare invio non devo fare invio che devo fare no mi sei messo sbagliata raga no no mother lode non funziona nel menu ok quindi vuol dire che non funziona neanche qua così no allora quello là di estates andava eh ma quello degli estates ci sta devi collocare la prima in una casa per forza dove li collochiamo gribbio allora se buttamo qua 50x50 30x30 questo è più grande vorrei vedere prima ma questo almeno c'è un paddock crisi dio villetta del galoppo dai vabbè sti cazzo andiamo qua andiamo in villetta del galoppo prendi un lotto a caso citta e poi trasferisci anche collocarli anche in un lotto vuoto poi li trasferisco ah sì sì eh era per fare oh mio dio che carini no Emily mi hai rotto il cazzo guarda lui è carino aspetta allora mother lode cazzo che cazzo no leva allora intanto metti pausa perché non so che cazzo sta che fa scrivi money mille mo ma no money ma non funziona mother lode ci sono altri cheat che posso fare vabbè vabbè ma faccio così arriviamo a un milione hai ragione potrei fare copypast vabbè è uscita è uscita l'espansione di vita da ranch è uscita oggi ora che abbiamo cioè ma guarda questo ma c'è il frisone se sta un croppare il coso vabbè mi sento male senti ora quindi che bisogna fare puoi cliccare sull'espirazione per cambiarla senza cheat ah si ma non è vero non me la fa cambiare Cristo allora ora che faccio allora vado salvo villa dell'ingrop salva intanto vai sul telefono io non mi ricordo più un gazzo raga qua telefono no lo cazzo sta eccolo acquisti casa se mi pare trasferisci prendi una vacanza cerca lavoro no che devo fare aspetta ricamboni no per forza che devo fare qua trasferisci in unità ok sì però scusate scusatemi io voglio una casa bella ti pare che non c'è sta una casa tipo nel nella lista è per i soldi ragazzi è un cheat vecchio come il cucco ciao coc mia ti amo anch'io baby ci giochi a The Sims ti piace? non c'ho tutti i salvataggi persi tutti vorrei andare dalla galleria eh stai a capire che te sto a dire stai a capire scarica la casa della galleria bravi allora però dove ci trasferiamo? no allora famo così fermi fermi togliamo il trasferimento prendiamo una casa ci gioco dal 2 io impazzisco cioè io impazzisco veramente vivo più la vita su The Sims che in quella reale cioè compriamo una casa la mettiamo e poi la trasferiamo ci siete che vi sto a dire? facciamo così io ragazzi gioco veramente da tantissimo tempo mi ce chiedevo veramente troppo è uscita st'espansione con i cavalli io me posso sentire male che si fa ad andare nel cazzo di lotto zio pera gestisci entra lotto gestisci no cazzo se va basta vado a comprare l'espansione buona live spenderò 5 ore di gare i cavalli sulla lampadina do cazzo eh lampadina cusi mamma mia cusi mamma mia cusi 10 sub mamma mia incredibile signori cusi grazie mille baby cusi grazie mille grazie mille gestisci scenari cazzo sta gestisci scenari ah salve oh grazie pefe bravissima caricata sab a cock grazie mille belli grazie mille a gusona pure 10 sub incredibili oh ora ora in the channel mi fa morire che parla burino in the channel come si fa a comprare non sono nella parte giusta me sa mannaggia la merda grazie la carta la casa la scarichi dalla galleria del menu principale poi aggiunge all'otto ok quindi devo tornare al menu principale unità familiare no sta in alto a destra menu ma che cadere notifiche centro però io mannaggia creano no no deve essere così difficile sei sicura lampadina ah c'hai ragione la mia biblioteca ok galleria mamma mia regà hanno già fatto le case della proto madonna io lo so mamma mia quanto cazzo godo ora expression packs togliamo tutto personalizzato eh tocca aspettare e dobbiamo togliere tutti no io voglio togliere quello della vita guarda che bello questo madonna fichissimo lotti giusto eh ma devo scaricare però io voglio eh ho capito frate ma ci metto vent'anni a togliere tutto eh più recente però scusa vedi i più recente ci stanno questi ti dici ranch ranch frate non è difficile my god oddio non so che cazzo scegliere ora prelento eh ciao sne però oddio ora che cosa scelgo ragazzi aiuto aspetta aspetta però dimensione devo mettere solo rotti grossi solo grossi li volemo più popolare no regà mi sento male mi sento male aiuto aiutatemi salvatemi salvatemi la vita vediamo questa ma questo è un ranch ragazzi vanno fatta a costruire già sta roba no regà questa è una cioè il terzo è bello bello il terzo si però un po' piccolino non c'ha la parte per i cavalli baffa lorenzo pure yamoll eh madonna che figo però sembra più tipo di lotto residenziale ecco eccoci vediamo un po' la ma ranch wild wild west ranch che figata quale prendo secondo voi allora qua tutti quelli che vedi con l'angolino verde in altra stessa sono dei contenuti creati da noi creati da altri l'angolino verde in altra sinistra questo qua però non so come non ho l'espansione certo ce l'ho quale posso scegliere io non riesco a capire davvero voglio vedere se è qualcosa adinerente alla mia espansione nuova capito perché devo mettere mostra posseduti ah ma mica me lo fa però ah mostra posseduti ok ok ha senso ha senso il terzo della seconda fila è bello questo eh vedi qua cambia antifona vediamo sto ranch se che cosa c'ha ma non ci stanno le cose dei cavalli regà vedi maremacane no devo mettere solo game pack dove cazzo sta ecco vita nel ranch boni tocca spuntare queste esatto john infatti io quello che farò adesso è spuntare deflagare tutte queste cose qua aspettate perché vedi bisogna togliere tutta sta roba e prendere uno con solo robe di vita nella ranch non so dici che non ce sta aspetta no expansion no fermi ho sbagliato tutto posseduti nel game pack magari metto solo questo perché se no raga io non so come come metterlo eh ho scritto ranch raga ma non me da solo ranch vedi cioè mi serve mi serve comunque un paddock come cazzo faccio non sono ranch perché eh terzo seconda fila ma no zi non c'è niente questo questo è bello ma non so se vedi non ha il ranch manco questo questo uguale al well west non c'è un cazzo stalla proviamo stalla stalla è presto sì infatti e quindi che posso ma non posso aggiungere uno bello che sta direttamente già nel gioco cioè tipo vado qua è una casa bella no quale potrebbe essere questo è un parco se affatti questa è bella però tu caccia sti coglioni vabbè li cacciamo che problema c'è cioè ma ho capito perché sempre famiglie prestabilite devono avere la casa più bella ma dove sta scritta sta storia bar residenziale parco residenziale rubar marità signora eh li sfrattiamo io direi di sfrattarli costruisci altro visita come cazzo li sfratto sti stronzi ah gestizionità familiare sfratta trasferisci unità familiare ma si ma buttama acqua ma che ce fai ah ce sto io qua oh my god non se boh mettemoli qua tanto tu hanno i sordi se trasferiscono vai grazie mille Eleonora per i 14 mesi ciao Martina benvenuta a tiktok sfrattati ciao a culo stronzi e ora trasferisci e ci prendiamo la vostra casetta di merda stronzi beccatevi questa finiti i bottanzi secondo me viene a prendere uno bello magari magari per ora facciamo così se no non giocamo più io vedi come come funziona ho messo un ammobiliato mannaggia la merda questo è il karma è il karma cazzo è il cazzo di karma di merda no no non posso no non posso no non me va no non me va sono già qua vaffanculo trasferisci no ci stanno già sti stronzi qua vai trasferisci qua ok facciamo subito che ci vuole qua trasferisci qua trasferisci no regà non c'è ammobiliato no ritrasferisci i divoracci a casa loro hai ragione lampin però mi ha salvato ormai vabbè vaffanculo dai no gioca ma redama vaffanculo dai eh certo melissa ma salva in automatico vabbè questo è il karma ci sta wow ci sono le stalle no regà però qua troppo tempo c'è troppo tempo ma c'è pure il furgoncino frate ma che me sta di allora mettiamo pausa e maremacane costruisci no Emily non mi devi rompere i coglioni va bene ciao ma raga appiccia ragione hai ragione cucinotto accogliente questo è molto da ranch meno riesco a capire gli spazi qua raga ve lo dico cioè non riesco a capire proprio gli spazi ok abbiamo due piani ok ok allora la cucina può essere ma che cazzo le stanze c'hanno questi veramente ma la cucina può essere così grossa frate è solo qua la cucina cioè mo come mi sembra l'aggiornamento bello allora cucina come la famosa cucina frate no ma che mamma mia da poracci veri ma sai che non lo so bella quella era pure questa questa è molto da campagna nera e rossa greve nera e rossa bella questa pure è da campagna questa è da campagna si compra la stanza come cazzo adattiamo questa stanza mo mamma sta sbraga tutte le porte no 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 vabbè senti vaffanculo giusto così mettiamo le porte dopo dai e se no posso pure ricollocarla eh no porca merda vai su ma ci si capisce un cazzo con ste pareti ehi dai la cucina è qua dai via va bene così via va bene così quanto cazzo volete grossa sta cucina va bene così va bene così qua ci fanno una bella camera da pranzo ma perché ci scegliamo le cose almeno su non rompete il cazzo su camera da pranzo via anzi cesso cesso è la cosa più importante adesso ma è possibile mai che ci sia un cesso cioè solo la scala oh ecco questo è un cesso cesso carino questo ma che è sta cosa un po' eccessivo comunque secondo me quelli più bello questo mi piace marrone e bianco così compra sicuramente vabbè che ci vuole oddio ok posso farlo più giù però volendo eccoci qua un bagno piccolo per gli ospiti che ci fai è giusto che ma perché cazzo mi fa sta roba ma che era no ma c'è stata la scala ecco che posso ok c'è in modutto eccesso ah c'è più eccesso ok lo rimettiamo lo rimettiamo un attimo eh ma dove cazzo sta la roba ma una volta non era così ah ecco infatti mettiamo giusto un cesso un bel cesso questo è brutto un culo seggio seggio di rame visto che è c'è spuglio sollievo della natura ma che cazzo mi sembra un po' eccessivo prendiamolo così ma prendiamolo bianco normale non ho capito perché questo cesso è fatto a sto modo però vabbè va bene così ok via ora salone salone ci siamo fatta soggiorno ma che bello oh my god oh my god è bellissimo no raga è stupendo cioè fermatemi perché è stupendo è troppo carino troppo carino è uguale a quell'altro mi piace questa ma sa The Bilbo Baggins non so perché però a sto points a sto points lo mettiamo qua lo mettiamo qua però aspetta scusa eh no non è vero lo mettiamo qua questa qua però mi mi trovo assurdo che cioè non adatti la stanza mi sembra strano vabbè va bene lo stesso eh il comodino magari lo dobbiamo mettiamo di qua come si faceva a girare raga cazzo si faceva a girare e devo rimettere la porta si ma cazzo si faceva a girare ho tre ore che stava a spingere sto cazzo di tasto destro vabbè porta mi piaceva quella porta così belle belle ste porte raga che roma è impossibile intersecare oggetti mocca oggetti ce stanno è tutto cioè in realtà no no vabbè facciamo così e risolvi il problema senti in me senti a me eccoci qua e risolvi il problema metti una bella porta quando stava quella del ranch eccola ma non me la metto ancora ma perché c'è sta sto bastone che era ah ecco mo si sposta vedi ecco qua ma riprovamo passaggio a livello questo cioè mi sembra un po' eccessivo effettivamente forse possiamo fare una cosa del genere mi sembra che abbia più senso ma perché ma perché ma perché c'è sta sto cazzo dei quadro ma vattene a fanculo va ma vattene a fanculo il quadro c'è sta ma vattene a fanculo c'ho tre ore che sto cercando la porta le cose c'è roba da pazzi alza i muri no però lui c'ha questo regà questo tutto bianco e via e basta ok bene e il salone ce l'avevamo certo una televisione la potevamo pure mettere eh no cioè bello eh la vita in campagna però insomma un salottino non l'avevo vista proviamo la madonna ma che re in cinema va senti sto quadro fammo che lo mettiamo qua ha già rotto i coglioni per quanto mi riguarda fammo che lo mettiamo di qua eccoci qua ma come la cucina mi è rotta guarda che bellino che va bene che ci devi fare con la cucina zi va bene così tanto se si ordina delivere senti che gli mettiamo è la madonna questo è il cinema cioè sta comunque la lampadina vabbè ma a me sembra il caso dai ma che stiamo a fare lo mettiamo bianco così eccoci qua così si può guardare anche la televisione eh bello ah ma già tanto c'è nessuno il bagno ce l'avevo giusto così eh per capire un attimo la camera da letto servirebbe signori ah vedi bello guarda che carino ok andiamo di qua eh no qua di distanze eh camera da letto ok ma la camera eh questa tocca raffa questa è carina però eh uh che carina però abbiamo fatto tutto così forse a sto punto cioè andrebbe meglio farla così così mi piace ma se può girare sta cazzo di camera scusate non capisco boh piazzamola un attimo ok la porta leggermente incastonata la finestra è giusta qua come si faceva a togliere un muro e qua mo ciao simone come si fa a togliere il muro raga aiuto sognerebbe tipo costruire aiuto oh no no dio cristo martello vedi eccoci qua ok perfetto dai così un attimo arrangiata perché tanto raga giusto per per fare cose ora cerchiamo di capire un attimo vita da ranch cioè dovrebbe avere delle robe oggetti elettrodomestici fuori dalla rete animali animali ok ora intanto bisogna mettere le lettiere ai gatti come si fa se no oddio stavano nel sotto sopra le lettiere ai gatti come le mettiamo i cavalli stanno fuori le lettiere ai gatti le mettiamo qui dietro dai nell'atrio erba da prateria che cazzo sarebbe allora mettiamo mangiate per animali amica cambia a cazzo 2,40 vabbè mettiamo questa perché costate più quindi ok ne mettiamo una due e tre poi la lettiera autopulente chiaramente senza paletta questa per forza con laser la mettiamo bianca sentiamo la musichetta eccola qua una due e tre poi quella era pure per l'acqua non mi ricordo qual era per l'acqua l'estero animali mangiatoia mangiatoia ma l'acqua c'era raga non mi ricordo capanno per animali mi sento male mi sento male attenzione potrei sentirmi male attenzione perché potrei sentirmi male cosa non c'è ma ci mette animali frate ci mette animali o no ah non c'è quella per l'acqua ok la mettiamo qua davanti se no tipo qua che entri se siete sulla capanna no mi sembra un po' eccessivo che dite no il pollaio si però frate non mi dite cose il pollaio lo voglio ah già questo è più di mucche no le mucche ne voglio perché sono impegnative le mucche oh pure il miele che bello madonna stupendo abbinatoio per cavalli ok ci siamo e dove mettiamo l'abbeveratoio mettiamo qua ma c'era una mangiatoia mangiatoia per animali eh ok li mettiamo l'abbeveratoio all'entrata così e poi ci mettiamo anche questo eccolo qua no questo è quello di prima così che dite ma qua dentro ci devo mettere qualcosa so cosa sia sta roba però che ci devo mettere ci metto un'altra roba l'altro di questo nella stalla raga ma a parte di scherzi ma sti cavalli ma c'entrano quattro cavalli su ste due cose secondo me no l'erba serve ah già è vero infatti c'è il coso del cavallo e l'erba la mettiamo ma guardate sì perché i cavalli brugano l'erba ma poi c'è stivo però mettiamo qua facciamo tutto il paddock così lo posso fazzi e la mettiamo negli angoli dai la mettiamo tutta negli angoli tutt così magnano ci sta no così possono rumina questo però non mi piace sta così mi urta un po' però vabbè giochi oh giacini per cavalli forza grazie orlo grazie mille baby dai ma come ma non entra nella stalla ma che cazzo fanno ma in che senso scusami ma non mo fa mette zii come mai no regà ci stanno pure le cose e gli altri ostacoli mi sento Mario stanno i sarti ostacoli zii mi sento malissimo stanno i sarti a ostacoli però guarda che cazzo ci devi avere e io non ce l'ho sto spazio vedi perché tutta sezione vabbè raga non abbiamo fatto eh cioè barili ippici ma che ci devo fare ma che è sta cosa eh ma infatti scusa famo così il mangiatoio ah si è esploso male no mettiamoci il mangiatoio e la cosa ma c'entra quale maremma maiala qua c'entra però ma come cazzo hanno fatto queste case no è esploso è esploso è esploso tutto ma che cazzo però eh è esploso il pollaio eh che cavolo allora il pollaio mettiamo qua il coso per ste cazzo di api e mettiamo qua anzi ti dirò ne mettiamo due va dietro recinto dietro casa ma non c'è non ci possa andare non è roba mia vedi stiamo dietro a sta cosa ma non c'è non ci si può stare sentiamo una cosa giociamo un attimo dai voglio vedere perché veramente qua se no sul serio eh voglio vedere che cosa possono fare i cavalli oh mio dio sono bellissimi ma chi è sto matto oh ma che stai a strillargattomia scemo presentazione scortese a sto coglione che ha la panza ma che vuole ma dimmi se ti pare normale no raga ma che belli guarda i piccoli quando sto io va subito a farla sociale in televisione dai ma c'hai quattro cavalli spazzola il manto che cazzo ne so dove sta poi Ade ora c'è sta cavallomia deficiente ma guarda questo gratta il collo Ade questo me la pesce il gatto ma io ammazzo paura degli animali plertante ma che c'ho io che sto mi rifata a caso ah col cavallo ah ma perché mi posso sposare pure con cavallo vabbè fatta allora mi ho messo il divano storto ma che po' le state boscia oh ma chi è questo ma chi è questo scusa come si chiama umber umberto dove stai piccolino calma perché è nervosito spaventato perché spaventa oh ma che cazzo è tutta sta gente che sta bocca a casa mia qualcuno ha pisciato nel coso va bene oh piccolino che sta fa sto cavallo regà mi sento male no vado spaventate calma calma Ade calma il cavallo se passa attraverso mi fa sentire male oddio sono pazziti questi cavalli sono pazziti sono tremendi umberto è davanti alla mia porta forse sarà calmato amica di Ade ok ora amica con questo ma come sveglia bene va andrà dormito il cavallo Ade è spaventato ma ancora abbraccia oh dio posso abbracciare il cavallo mi sento male mi sento male posso abbracciare il cavallo oh ma hanno subito cagato come metti nell'inventario hanno subito lasciato una bella cagata davanti a amore che carino raga si possono abbracciare che bello stupenda che ha cagato boh proviamo allora Ade monta su vediamo che fa vediamo che fa vediamo che succede oh giorginella ciao bella vediamo se che monta sopra che succede cioè che cosa fa come si comporta umber umberto micchia wow ma sapete cosa che secondo me vedi è impedita deve imparare trotta vedi anzi no scusa mi sento male so capace i gatti si riconosco come so l'espansione nuova è dei cavalli che mi metto a fare i gatti vedi però acquista come si fa scusami vai a fare una cavalcata rilassata vediamo no bellissimo perché più vai a cavallo e più impari chiaramente guarda come sta goffa ma cavallo così va questa io non so che vola la gente da la vita mia ma che cazzo vuole il comitato del benvenuto ma io non voglio essere benvenuto non voglio vedere chi è sta gente ma chi è sta gente ma che gli avete dato a mangiare il gatto mio ma guarda sti quattro scappati di casa guarda gli soffia grande cazzo yes accende invita i vicini ad entrare c'è vecchi padroni di casa sono venuti qua raga meravigliosa sta cosa dei cavalli comunque guarda lui guarda lui quanto è carino ti prego guarda quanto è dolce ma stanno a dormire così ma io andò cazzo sto ma andò cazzo sono nata guarda che roba ma non sembro tanto felice scilla no sì ho comprato il pacchetto un sacco di pacchetti c'ho c'ho quel pacchetto di dagli animali vita in campagna guarda che bello ci sono anche comunque ragazzi io non so se state a capire che uscirà The Sims basta torna indietro ti opera scilla The Sims 5 io mi sento male perché The Sims 5 sarà multiplayer ma posso smontare a cavallo sta cretina ah scilla no no sei andato il comitato eh vabbè sei andato il comitato tornavo indietro vade non si può tipo cavalca fino a casa non si può fare una cosa del genere vediamo un po' questa è casa mia ma è cascata no mi sono persa lei che è cascata cazzo sta fa e sta fa si è grande la mappa ok ora vai a casa no aspetta cavalca fino a casa oh bene bene ci sta ci sta ma questa è una fama grigliata oh ma mi c'ho una fame oddio guarda stampa guarda come cazzo cavalca ma che sta fa ora che è in sella chiara se ne ora che è in sella chiara se ne ramadina veramente si può dunque dire che non gradisce la guidazione no mi sento male bellissimo bellissimo stupendo trofina il collo vediamo se me lo fa fa da qua si me lo fa fa da sopra è a disagio mi sa che devo pisciare dai va vabbè va a pisciare dai guarda fraia come sta allora rollo che sta a fa mori miei non l'ho cagato di pezzo però c'è è l'espansione dei cavalli oh guarda il piccolino che guarda il piccolino quanto è carino mamma mia quanto è carino gli piace proprio sta palla spaventata cosa impazzita sto a cagare la palesemente al bagno in santa pace imbizzarrimento inatteso ah vabbè ma che cazzo è che hanno portato questi panini raccoglie la porzione dell'inventario ah c'ho una fame regà ma io uscirei da casa ma che ho fatto che cazzo è successo però scusate posso dire una cosa non ho messo neanche una cuccia per i gatti mi sembra un po' eccessivo mi sembra un po' eccessivo non l'avrei messo neanche una cuccia per i gatti frate e mettiamo una qua la mettiamo proprio qua davanti eccoci qua no questa non mi piace eccoci qua eccoci qua ora si cuccia per pancicchiazza comunque mi serve assolutamente un domenico comunque stai sti cavalli mi stanno a cagare per tutto il ranch regà ma in che senso vediamo cos'altro si può fare essendo una cavalla coraggiosa bell riesce a tranquillizzare ade e ora non è più spaventato oh meno male va ade dorme ma comunque questi cazzo dei cavalli stanno sempre cioè dormono sempre in piedi stanno sempre a due cazzo che pare blocca per il singolo consente accesso a bracciante del re tutti tutte le mini pecore ma che cazzo sarebbero queste mini pecore i polli giato compra i polli c'è manca solo i polli acquista polli mamma mia allora una gallina bianca una gallina marrone un gallo marrone una gallina nera e un gallo bianco vai eccoci qua eccoci qua sparci il mancime oddio ma non è che i gatti si mangiano i polli mo ciao Alessandro ti ricana che i gatti si due galli ci possono stare e vabbè oddio raga la mia vita guarda che bello i cavalli i polli i gatti che bellezza chiacchiera dell'esistenzialismo col cavallo mi piace l'idea ma dai i polli sono apriti lo trovo il colpo delle volpi ok adoro ciao romi vediamo altre scelte amichevole cura dei cavalli cambia pulisce le spazzole del manto chiama il cavallo per bere vediamo che succede che vuol dire chiama il cavallo per bere mica sono impegnati i quattro cavalli comunque sapevo io grazie ansia l'ansia vien pensando mi sento male e non mi stupendi ma il cavallino si è sempre a dormire ma che fa grazie sacurella ciao bella grazie per il ride nutri con il peperon oh mio dio ma deve essere nutrito questo cavallo oh mio dio il piccolino va nutrito ma mio dio che carino che carino mi sento male troppo carino ma che ha scureggiato ma che schifo ma che schifo ha scureggiato pesantemente no questa espansione è meravigliosa stupenda proprio oddio vediamo oddio lo posso nutrir che carino mio dio ciao nico che carino che carino adoro quanto è stato il salinello culla no regà ma quei cuccioli di cavallo si possono fare un sacco di cose troppe cose posso fare calcola troppe cose ma non so più che cazzo posso fare ma come a disagio lila stai fare un live su twitch lila ciao grazie mille per i ride che problema c'è ma perché il cavallo va così ma va lila ma pensa a te brava ma che è regà ma che cazzo ma che cazzo c'aveva il cavallo ma l'avete visto ma si era incastonato è un po' buggata questa espansione giusto un attimo senti vabbè sti cavalli mi stanno appisciata tutta casa gioca dentro ciao buonanotte nei paraggi ho scoperto l'incendio oh cristo e dio dove ma porco no ma guardate cristo me lo hanno a fuoco ma che è ma perché non è da fuoco oh cazzo il camino porca merda no che fai rollo ma che cazzo fa sto cazzo oh cazzo Ma questi sono deficienti in culo Ma i gatti si mettono ad andare sul tavolino A bruciare la coda Ma che cazzo l'ha acceso il camino poi Mannaggia la merda Ah non posso buttare perché c'ho un bidone dei rifiuti Ma devo andare normale a te È il rito satanico da parte dei gatti 100% No vi giuro mi stava a pian corpo Già stava a pensare che i gatti morissero Cioè mi stava a sentire male già ve lo dico Ve lo dico era finita Mi sto sentin male Dove dove metto questo cazzo il bidone? Mettiamo qua Tanto male rega vi giuro C'è davvero gatti ignifuchi C'è Ora posso buttar via Mannaggia la mignotta Vabbè ma ora si puliscono da soli loro no? Ma poi pure la merda lo butta via Ma pensate Oh ma è tosta sta dietro un ranch Stanno a fare sti due Che carini mamma mia Sono sbizzarriti sti cosi eh Sbizzarriti vabbè Oh cazzo Dove metti croccantina Hai ragione Riempi Riempi Troppa azione in coda Vabbè oh mamma mia Mettiamo un attimo un velecizzatore I cavalli come corrono Mi fa molto piacere Chiara Ma devi Andare a riempire le ciotole Chi può adesso? Esatto bravissima Buonasera a chi di gatto Ciao Ciao tipo Ma mo staccamo raga Staccamo perché Il nostro gioco Mo che è Vicente è terminato Eh meno male Guarda Freya È proprio da Freya sta cosa Oh mio Dio ragazzi Oh mio Dio Minchia sti cavalli Sono proprio Remendi Basta Nella fa più Una giornata in ranch Vabbè basta Torno alla mia vita Oddio mio santo Oh so a dormire Via Guarda i gatti che mi guardano Nentre dormo Oh sta piovendo Che bello Ai cavallini Sotto la pioggia Chianta cazzo dorme Oh So proprio io Regà Sto gioco è Bellissimo Sto gioco è bellissimo Però bisogna un attimo Capire Perché sto un po' Spaisata Un po' Così Non so quello che devo fare Ci sono tantissime cose da fare Bisogna Bisogna un attimo capire le robe E io E sono stanca In questo momento Vi giuro Oggi Sono stata tutto il giorno A realizzare A registrare Editare Il video Per Come si chiama Per Per Instagram Di domani Salva Ho girato un attimo E ho visto Che gira il fuoco In casa No non hai capito Delirio Delirio vero Delirio vero Regà Grazie mille TikTok Per Per tutti quanti I follow Buoni Grazie infinite Grazie mille